E ciao a tutti ragazzi qui XWill e ben ritrovati nel mio canale, in questo nuovo video oggi siamo qui ritornati su Grand Theft Auto Online Come potete ben vedere ci troviamo all'interno del nostro garagino, quello incredibile Non escono video da un po', mi sembra anche strano registrare un video Però sì, su GTA siamo sempre lì, solita roba insomma L'ultimo video che ho pubblicato è tipo su Grand Turismo, quindi ok Ebbene, oggi ci troviamo qui all'interno del nostro garage perché è arrivato un nuovo veicolo, incredibile Ce l'abbiamo fatta, di fatti se andiamo su Souter San Andreas possiamo trovare il Karin Hotring Everon Karin Hotring Everon che in realtà aspetto abbastanza, cioè sembra un veicolo interessante soprattutto utilizzabile nella categoria gare Hotring Credo, spero, si chiama Hotring Fatemi sapere magari qua sotto nei commenti se si può utilizzare nella categoria Hotring Il prezzo è di 1.790.000 dollari Oppure possiamo sbloccare il prezzo speciale facendo quella roba lì, 1.342.000 Ma come sempre vigge una regola, ossia quella di andare a leggere la descrizione del veicolo A tutti gli appassionati di rimorchi e ai camionisti incalliti Ora avete la possibilità di maneggiare uno dei più noti pick-up da corsa ibridi sul mercato L'Hotring Everon Voi portate la tossicità, noi pensiamo alla mascolinità Va bene signori, ordiniamolo, 1.790.000 ovviamente colorazione rossa E ce lo facciamo mandare al garagino questo qui C'è anche qui lo zio che parla ma... come che si chiamava lui? Dave? Dave? No non è Dave lui Chi è? A chi si ricorda? Se non mi sbaglio qua ce l'ho Ah raga come se vuole chiamare si chiama, va Una cosa è sicura, io come sempre vi invito a lasciare un bel like per supportare al meglio il canale Commentate, condividete, iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti E aspettiamo che arrivi il nuovo veicolo Nel frattempo, pubblicità Sei stanco di essere povero su GT Online? Bene, allora contattami su Instagram per un'aggiunta di denaro Link qua sotto nella descrizione Ed eccolo qui, giunto nel nostro garage Il Karin Otrink Everon Allora, vi dico già da subito che a livello estetico non mi dispiace affatto Come vi dicevo è un veicolo che attentevo abbastanza Mi piace Soprattutto perché ha una qualità nel dettaglio Che mi sembra davvero ma davvero molto elevata A differenza di altri veicoli Non lo so, adesso vedrete anche negli interni Comunque è come se avesse un qualcosa in più diciamo Ecco, comunque sia lui si ispira alla sua controparte reale Toyota Tundra Pro NASCAR Quindi un veicolo a tutti gli effetti di NASCAR Versione 2022 E così stock di fabbrica Riesce ad avere uno scatto dallo 0 a 100 In 5,10 secondi Ed ha una velocità massima di 173 km orari Niente male per il nostro piccoletto Saliamo a bordo e ascoltiamo il sound del mezzuccio Vediamolo un po' Marmittozze laterali Ci sta Portiamolo subito al Los Santos Custom Eccoci qui al Los Santos Custom Ho notato solo adesso che abbiamo sta roba sopra Ma non capisco Cioè c'era pure prima? Sai che non ricordo? Io non l'ho vista dentro il garage sta roba Boh raga non lo so Comunque Vediamo un po' Va Si classifica nelle sportive Ok Ci sta E vediamo Vediamo Allora ripara veicolo Si freni Li mettiamo al massimo Motori Al massimo anche quelli Noto che abbiamo poche modifiche Cioè non noto paraurti Roba Quindi La lasciamo liscia Ok Esplosivi Non ne mettiamo Claxon Va bene quello standard Non è che mi impegno più di tanto Luci Giustamente essendo un'auto NASCAR Non ha Nel luci nulla Cioè è tutto finto È tutto un adesivo Quindi Signori Boh I neon In un'auto NASCAR Ma mettiamogli solo Perché guarda Già mi sembra scarsa di modifiche Quindi Non mettere Manco questi Nel senso Boh Tanto vale che la lasciamo stock Già siamo giunti alla livrea Livrea Abbiamo la Redwood 2 Ok Tra l'altro Questo veicolo qui Ha una livrea un po' particolare Che si specula essere una livrea Tipo Che potrebbe comparire Anche in GTA 6 Poiché la qualità è molto elevata Poi c'è il nuovo logo Addirittura Comunque abbiamo Lo U2 27 Abbiamo la Atomic Tires 34 Patriot Beer 18 Bank of Liberty Carina Bank of Liberty Regà Non è malvagia Cos'è? Schweresbury Schweresbury Non lo so Va bene Shotguns 72 Lucky Placker Device 54 Attenzione P P And Skew Abbiamo la Hyre Herler 61 Ragazzi devo dire che sono interessanti come livrea Anche questo qui Il Bean Machine Republican Space Ranger Abbiamo un botto Ma un botto Di Livrea Cioè non ve le vado a leggere tutte ma guardate Comunque Oh Sono fatte bene ste livrea Cioè Guardate che roba LTD Logger Light Guarda che roba Cobra Paints Cioè Wow Rain L'acqua L'acqua De GTA Main Match 21 Eccola 26 Auto Exotic Weasel Network Il Burger Shot No vabbè Regà Pazzesca Questa Questa qui ha un botto Di livrea Fighe Rugger Room Allora Ovviamente Io direi Di mettere Questa qui di Eccola Per un semplice motivo Perché è proprio quella Che viene definita Spoiler di Gizia 6 Perché? Perché c'è il logo nuovo di Eccola Che è cambiato E c'è il Go Viral Che si vede Anche all'interno di uno dei video leak Quindi giusto per avere Quel briciolo di personalità In più Giustamente Noi mettiamo la livrea Che probabilmente Metterà il 90% Delle persone Verniciature Attenzione Potrei tenerlo rosso In realtà Abbiamo pure il colore secondario Che Ah ok Solo le barre Va bene Potrei tenerlo rosso Perché con l'Eccola Ci sta Però Difatti è proprio rosso Cioè nel senso Potrei tenerlo rosso È rosso Cioè è proprio la livrea Che riempie tutto di rosso Quindi Per forza La devo lasciare rossa Non ho altre alternative Posso solo modificare Il secondario Che metterei Nero Ad essere sincero Base Molto base Ma ci sta Simbolino crew Non mi piace Dove me lo metti E poi pure brutto Va bene così Sospensioni sportive Mi dà la scampanatura No aspe È un minimo la scampana Allora mi fermo a da strada Dai Trasmissioni le metto al massimo Turbo Li mettiamo Ruote Attenzione Sinceramente direi Di lasciare queste Perché non abbiamo Altre ruote Lisce Diciamo Così Su gt online Quindi Anche le ruote Sono costretto A lasciare le base Ad esempio Pneumatici Non posso modificarlo Posso mettere L'antiproiettile Il fumo rosso Finestrini Ma a te Te li metto molto oscurati Tanto per Abbiamo finito con le modifiche Guarda Giusto per Ti metto il kit neon Colore neon Te lo metto rosso E abbiamo fatto Cioè Non posso modificare altro Peccato Davvero molto peccato Mi aspettavo molte più modifiche Da questo veicolo Però Ahimè Sono veramente poche Risicato A livello di modifiche Veramente Ma veramente Peccato Dopo un bel po' Soprattutto che non escono veicoli Mi esce questo Che pecca un po' di modifiche Vabbè Usciamo fuori va Ed eccoci qui fuori Dallo Santos Custom Con il nostro Karin Everon Allora Che dire in merito al veicolo Regà ve l'ho detto A me piace come veicolo Ok Piace la livrea Anche tutte le livrea Che ci sono Piove Mannaggia la miseria Però Veramente Ma veramente Peccato Per le modifiche Sono rimasto Veramente super deluso Cioè Mi aspettavo una modifica Che so Anche banalmente al paraurti Al paraurti posteriore All'alettone Anche a sti roll bar Dietro volento No Cioè Perché non farmeli Perché non farmeli modificare Un pochettino La marmitta Non lo so Troppo povero Di modifiche Davvero troppo povero Di modifiche Il che è davvero un peccato Comunque sia lui modificato al massimo Così come l'abbiamo modificato noi Riesce ad avere uno scatto Dallo 0 a 100 In 4,47 secondi Ed ha una velocità massima Di 177 km orari E anche con le modifiche al massimo Non è che guadagniamo Tutte ste grandi performance Cioè Siamo molto simili allo stock Indy per cui Boh Saremo a bordo Ascoltiamo il sound Peccato per la pioggia Regà Davvero Davvero peccato E il sound Anche qui ci sta Sì Ma è il classico sound Tipo credo che faccia anche La normalissima Hot ring Che abbiamo là Quella che c'è sempre stata Fammi vedere un attimino Gli interni Ecco appunto quello che vi dicevo Gli interni sono fatti Discretamente meglio Cioè guardate come Anche le mani impugnano il volante Banalmente che Molti veicoli Sono fatti a costa De cane Insomma Sempre avere un piccolo plus Di pochissimo Ma sempre avere un piccolo plus Comunque Trazione posteriore E vediamo un attimino Cosa facciamo con questo veicolo Perché Sinceramente La cosa giusta da fare Sarebbe buttarlo in gara Hot ring E vedere come si comporta Contro magari Un'altra hot ring Che due alla fine ne abbiamo Solo che non mi ricordo Il nome di quella hot ring Là Però noi come sempre La testiamo qui Buttiamola in autostradina Di velocità Della velocità Scusatemi E vediamo un attimino Cosa ci dice Unico problema Unico problema è che abbiamo La pioggia Quindi tipo Test dell'agilità Test della tenuta E robe del genere Vengono un po' Come dire Annebbiati Però Comunque vediamo un attimino Boh Sempre inserirsi bene Vi devo dire la verità Però prima farei un test Della frenata Già che ci siamo E siamo alla velocità massima Purtroppo su bagnato Quindi 3, 2, 1 And Go Ok Siamo arrivati lunghi Ma Regà È bagnato a terra Quindi Purtroppo Questo test Direi che è abbastanza Falsato Comunque credo che I freni siano Tutto sommato Nella media No Purtroppo Mamma mia Guardate che roba Allucinante Ma da dove è uscita fuori Tutta sta acqua Eh Assurdo Vabbè Comunque Dicevamo La tenuta Non lo so Sempre essere buona Nonostante ci sia la pioggia Comunque se tiene così Con la pioggia Io direi che Ci siamo No Direi che la situazione È abbastanza Ottimale Tutto sommato Gli inserimenti Regà L'agilità del veicolo Lascia un po' il tempo Che trova Direi Piuttosto proverei A fare la curva D'alta velocità Che anche qui È tutto un dire È tutto un fare Poiché È con l'acqua a terra Da quante che non apro Sto gioco Da due settimane Tipo non apro sto gioco E anche di più Oh lo sto aprendo oggi Dopo tutto sto tempo È come mi accoglie Con un temporale Cioè ma di che cosa parliamo Oh Vabbè Frank che vuoi Mannaggia la miseria Comunque niente Anche la curva Ad alta velocità Mi sembra Mi sembra questo Cioè Sì vabbè Mettiamo che c'è la pioggia Eccetera eccetera Però Già di suo Non è che mi entusiasmasse Così tanto Non lo so Non lo so Proviamo a fare qua Un attimino qualche drift Forse a drift Un pochettino ci siamo Ma neanche più di tanto Poi bisogna Prenderci la mano Siamo sempre lì Solita storia Io che drifto Contro mano Questo è un altro problemino Eh dai Non sempre a malvagio Vi dirò Sì sì Nel drift potrebbe essere Tranquillamente buono Basta Semplicemente Prenderci La manina Poi sicuramente Adesso l'acqua Rende Sì più facile il drifting Ma Più complesso da gestire Dato che pattina Costantemente Allora facciamo una cosa Io lo butterei Un attimino In prova Eh Su una pista Ah ci sono anche I soldi tripli Sulle gare hotring Buono Buonissimo Proviamolo un attimino qua Va Almeno abbiamo Un metro di paragone Azzi il minimo È cinque giri però Sono un po' tantini Ne volevo fare un po' di meno Giusto per provare Decido di avviare da solo Incredibile Nonostante i soldi tripli Non c'è nessuno a giocare Sta roba È allucinante E dov'è la La roba Non lo puoi utilizzare Stiamo scherzando Vero Raga non è utilizzabile Nelle gare Non è utilizzabile Nelle gare Ma Ma stai scherzando Ok Adesso va In questa gara va Quindi non ho ben capito In alcune gare Non la puoi utilizzare In altre gare La puoi utilizzare Vabbè Vediamo un po' come si comporta Sono curioso di vedere Come si comporta in gara Purtroppo Devo gareggiare da solo Perché non trovo nessuno Regà Non trovo nessuno Allora il record giro È 58 secondi Quinti Linea teorica Eccala In linea teorica Volevo dire Vediamo Quanto ci metterà il nostro carissimo Hotring Ma dato che A terra è ancora bagnato Purtroppo Maledizione Credo che ci metteremo Leggermente un po' Ok Un circuito un po' Particolare Prendiamo la parabolica Va bene così Un po' perde Meno male che c'è la parabolica C'è impensabile da fare Stretta sta roba qua Infatti Toh Bella lì Riproviamo la parabolica Signori Vediamo E tenta a partire Verso l'esterno Ok Adesso che si è asciugato Va decisamente meglio Guardalo È molto più controllabile Sinceramente Dato che non posso Paragonarla Ad un'altra auto Contro di me Non so dirvi Se va meglio O peggio Dell'altra Hotring Ma molto probabile Che siano simili A livello di velocità Cioè Alla fine Rockstar magari vuole Tenere la competizione Quindi Ha messo il veicolo A livello di performance Identico Ha messo il veicolo A livello di performance Uguale Così almeno E tu prenda La vecchia Hotring O che prenda La nuova Non ci sono Differenze L'unica differenza La fa il pilota Quindi l'abilità Di chi guida Potrebbe essere Mi viene da pensare Questo in realtà Un po' come le ruote scoperte Che tutto sommato Se ci fate caso Sono simili A livello di performance Magari quella curva Un po' meglio Quella un po' meno Ma siamo lì Ecco Stessa sensazione Provo qua Allora C'è sicuramente Chi gira meglio di me Cioè nel senso Io ci metto un minuto Al giro Quello ci ha messo Un po' di meno Eppure secondo me Il giro record Qui si può fare È abbastanza fattibile 58 secondi Non è poi Così lontano È difficile da battere Basta capire bene Come sfruttare Il veicolo E le curve E infatti signori Guarda lì Guarda lì Quanto ci sono andato Vicino a sto giro Allora Devo essere sincero Sto veicolo È un po' particolare Un po' troppo particolare Costa davvero Una barcata di soldi Per cui Non lo so Non lo so Ho i miei dubbi Devo essere sincero Lo consiglio Vorrei vedere Quanto costava La vecchia hotring Eh sta pure scontata La vecchia hotring Regà Eeeh Vi devo dire la verità Ne vale la pena Assolutamente no Modifiche Meh Il veicolo Si può dire che è buono Solo per gareggiare Nelle gare Hotring Boh Cioè secondo me A livello di performance Siamo lì lì Con Una classica Hotring Il prezzo però È tipo del triplo Quindi Conviene Assolutamente no Pigliate la vecchia hotring Se volete Un'auto Da hotring race A meno che quella Non l'avete già E ne volete un'altra Giusto per variare Oppure per collezionismo Perché alla fine Ve l'ho detto È un'auto Che a me piace È bellino Da vedere Però Inutilmente costoso Offre tutto ciò Che offre la hotring Normale Ad un costo Molto più elevato Quindi Diciamo che sono Abbastanza deluso Detto ciò Io direi che per questo video Possa essere tutto Oggi abbiamo acquistato Abbiamo acquistato e modificato Il Karin Hotring Ragazzi Veicolo Pieno di aspettative Ma che mi ha Deluso davvero Molto Ma davvero Ma davvero tanto Mi ha deluso Però io come sempre Vi invito a farmi sapere La vostra Qua sotto Nei commenti Fatemi sapere se avete acquistato Questo veicolo qui E se Secondo voi Ne vale la pena Io come sempre Vi invito a lasciare un bel like Per supportare al meglio il canale Mi raccomando Commentate Condividete Iscrivetevi Per non perdervi I futuri contenuti Se avete voglia Seguitemi su Instagram E TikTok Noi ci rivediamo Con un prossimo video Woo Ciao